Siamo con Gianfranco Rezzadore, presidente del Bopla e Cortina, raggiante non solo per la buona riuscita di questi campionati italiani di spinta, ma soprattutto perché finalmente la vostra battaglia di riaprire la pista e di riportare il Bop a Cortina si è finalmente perfezionata. Sono 11 anni che combattiamo, nel senso che sia per il movimento del Bop Club ma anche per il movimento nazionale era un'assurdità avere una pista chiusa. Il Bop Club Cortina ha continuato a lavorare, ci siamo dedicati anche ad altre discipline tipo il Parabob che per quanto sia una disciplina molto difficile con l'aiuto della federazione internazionale ci dà anche una mano economicamente, perciò è una disciplina che abbiamo potuto sostenere. A differenza delle altre che chiaramente mandare una squadra di Bop all'estero a allenarsi diventava veramente troppo oneroso e non avevamo le fonti per poter continuare a seguirli, perciò abbiamo fatto dei reclutamenti, abbiamo lasciato i ragazzi nelle mani della squadra nazionale però come Bocle e Cortina chiaramente diventava difficile. Adesso avete un pistino di spinta allargato già l'anno scorso, avrete un villaggio olimpico vicino al pistino di spinta una nuova pista che avete comunque come ogni anno ripulito per dargli sempre una grande dignità per il ricordo soprattutto di Eugenio Monti e il pistino Renzo Alverà, quindi due persone molto importanti adesso si riparte con grande entusiasmo e soprattutto si può pensare veramente di ricostruire un Bop Club di Cortinesi e di Ampezzani come atleti. Sicuramente, anche le parole del sindaco di oggi che ha detto che sarà un centro federale e anche del consigliere federale della fisireferente Stefano Longo in cui credo moltissimo e che si è proprio espresso in questa maniera, cioè che Cortina diventi il centro del Bop, il rositino e lo scheleto. Da qui si riparte, si riparte con reclutamenti, con tutta l'attività che si faceva una volta, perciò la pista diventerà il punto di riferimento nazionale non solo di Cortina ma anche delle zone limitrofe ma anche dell'Italia stessa perché è impensabile dire chiudiamo a spocchi, deve essere una cosa proprio comune di tutta l'Italia, anche oggi per dire ai campionati avevamo ragazzi che sono venuti da tutta l'Italia perciò le distanze al giorno d'oggi non sono un problema se c'è un supporto da parte di un'amministrazione comunale con la struttura e con un centro federale dove possono venire le squadre a basso costo anche allenarsi perché è impossibile pensare che una squadra possa mettere migliaia di euro per poter fare una trasferta. Ma che poi la pista può essere anche utilizzata come un'attrazione turistica, ci sono i taxi Bob estivi ma anche d'inverno quindi la gente può diventare un'attrazione anche per far girare l'indotto che non è solo di natura agonistica sportiva ma anche di natura turistica. Sicuramente, sicuramente la pista deve essere veramente aperta a qualsiasi attività nel senso che le tre discipline, il parabob, l'attività turistica ma anche gli eventi perché ci sono tantissime società ditte che chiedono di fare magari delle pubblicità oppure degli eventi ma anche magari spettacolari inventandosi qualsiasi cosa ma come cose che fanno già all'estero, cioè basterebbe proprio farla girare questa pista non solo dedicata proprio all'agonismo ma dedicata a tutto in modo che sia un'attrazione per cortina. E soprattutto abbiamo un po' di indiscrezioni su come potrà essere questa pista si cercherà di mantenere un po' la tradizione in particolare le ultime due curve quelle famose, l'antelao e la cristallo oppure si andrà a cercare di andare incontro alle esigenze della federazione internazionale più in termini di sicurezza quindi modificandone un po' una parte? Ma bisognerà trovare un giusto compromesso perché la pista come era se era adatta, anzi era un gioiello per il bob non era proprio l'ideale per lo skeleton e per lo slittino perché le forze gravitazionali in curva sono molto impegnative sulla pista di cortina perciò per queste due discipline era un po' difficile bisogna trovare il giusto compromesso fra la bellezza dell'attuale tracciato che rimarrà comunque più o meno simile anche se verrà rifatto completamente e la compatibilità delle tre discipline perché non si può pensare solo al bob ma anzi bisogna pensare anche alle altre due discipline lo slittino e lo skeleton sono delle realtà molto forti soprattutto anche lo slittino perciò noi dobbiamo ovviamente trovare una giusta soluzione Quindi diciamo che voi in quanto a crederci ci avete sempre creduto i risultati finalmente sono ottenuti quindi non ci resta che avvi un grosso in bocca al lupo e continuare così Crepi il lupo e andiamo avanti, tutto avanti